Siete rimasti fino a quest'ora, dobbiamo ringraziarvi veramente di cuore. Ancora, maestro Birdò, ci siamo? Sì. Perfetto, possiamo partire? Vi è rimasto così maestro Birdò per la scenetta. Intanto non venite andate e ci diamo la buonanotte subito dopo, vai. Zumba! Perfetto, possiamo partire? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.